E oggi iniziamo con gli obiettivi Valsese Vercelli in esterna. Vi portiamo in escursione in uno dei luoghi magici della nostra Valsese. Siamo sui sentieri dell'arte all'Alpe Piane di Folecchio. Venite con noi. Benvenuti a questa puntata di Obiettivo Valsese Vercelli. Come vi ho anticipato oggi ci troviamo in una località veramente molto bella. Siamo a poco meno di mille metri di altitudine. Siamo all'Alpe Piane di Folecchio divisa tra i comuni di Balmuccia e di Rossa. Si gode da quest'udio una veramente visuale meravigliosa. Dal splendido comune di Rossa conosciuta come la riviera della Valsesea lo sguardo abbraccia la valle fino a seguire il corso del Sesia che arriva a Scopa e poi a Scopello e poi di fronte l'Alpe di Miera. Oggi purtroppo in questo periodo così soleggiato abbiamo incontrato una giornata in cui prevalgono le nuvole ma si indovina la bellezza di questo territorio. E iniziamo a raccontarvi questo Alpeggio da questo punto in cui si trova un piccolo chiesuolo, una chiesa, un oratorio e un campanile staccati tutti e tre l'uno dall'altro. Questo insomma è un elemento che crea molta curiosità. Con noi è Daniele Arbeglia, storico, che vive a Rossa ma che conosce molto bene questo territorio perché ci è cresciuto. Insomma lei mi diceva che con cinque anni veniva qui nell'Alpeggio con le sue bisnonne. Sì sì. Sì qui praticamente siamo alle porte dell'Alpeggio dove c'è questo trittico un po' strano, una chiesa, un chiesuolo e il campanile staccato. Il più antico è senz'altro questo chiesuolo che risale nella prima notazione che abbiamo del 1592 ma sicuramente esisteva già prima. E poi non si sa bene se è stato costruito prima il campaniletto e poi la chiesa, non si sa perché non abbiamo documenti che riscontrano questa cosa. L'Alpeggio qui era abitato da cinque o sei alpigiani che venivano su solo nel periodo estivo con le mucche ovviamente e io venivano su con le mie bisnonne a fare il servitore. A quei tempi si mandavano fuori casa durante il periodo estivo a lavorare e così non si gravava sulla economia della famiglia. E quindi le sue giornate trascorrevano in questi campi, in questi prati a seguire un po' le mucche, poi si faceva il latte, il formaggio. Sì, soprattutto a scolare le mucche e fare attenzione a come ne dessero le altre proprietà. E poi si aiutava in tutti quelli che erano a fabbisogno, nella casina, e poi tutte le sere mi mandavano giù a portare il latte alla frazione Folecchio, alle mie nonne, alla mia nonna e al mio nonno ovviamente. E quindi tutte le sere è un po' un problema perché tra l'altro mi mandavano un ucchio che era già un po' buio in questa selva oscura. Quindi un po' di paura. Un po' di, tanta, con cinque anni. E soprattutto la paura più grande era quella di non rompere la bottiglia del latte perché era una grana. E senta, qui quindi c'erano cinque famiglie, invece si portava il latte a Folecchio ed era laggiù che poi si producevano i formaggi. Ma no, penso che si facesse tutto qua perché a quei tempi non c'era la possibilità, con teleferico o quant'altro, per portare giullati. Quindi anche perché ogni famiglia aveva due o tre mucche al massimo, non tante. Quindi praticamente facevano il burro e il formaggio per il fabbisogno e basta. Ah, e quindi non erano commercializzati. Poi così come è successo anche in altre zone della Valsesa, questo alpeggio ha avuto un periodo, un po' di abbandono. Fino ad essere poi recuperato oggi è un gioiellino davvero. Eh beh sì, praticamente il nostro amico Adriano che è stato il primo a vivacizzare di nuovo questo alpeggio. Poi dopo ci sono subentrate altre persone che hanno giustato tutte le case in un modo veramente molto bello. Il posto si presta anche perché, come si può vedere, c'è una panoramica sul paese, sulle frazioni alte. Ed è un posto veramente molto bello e anche poco distante da quello che è la carrociabile che arriva a Folecchio. Ecco, poi ne parleremo con Marco Fava che è una guida escursionistica, quindi ci racconterà un po' come fare ad arrivare fino a qua su. È un percorso questo che noi abbiamo deciso di raccontarvi proprio perché può essere una meta di passeggiate durante l'estate per scoprire la ricchezza della Valsesa. Io dicevo prima che da qui si gode una vista meravigliosa su Rossa e che Rossa è considerata un po' la riviera della Valsesa. Qua si coltivava già da tempo, c'era una tradizione proprio... Si coltivavano frutta e verdura che poi le donne di Rossa andavano a scambiare al mercato ad Arallo con le altre zone o in valle. Sì, sì, praticamente per la sua posizione che è veramente fantastica. Noi avevamo sei ore di sole nel punto minimo d'inverno, sei ore di sole e praticamente il terreno che è il residuo morenico, quindi una terra molto fertile, si adattava un po' a tutti i tipi di coltivazione, da pere, mele, noci, castagne che erano anche poi il sostentamento una volta delle famiglie. Quello che avanzava si andava a vendere e praticamente tutto a terrazzamento arrivava fin su quasi a 1200 metri. Ci vivevano, siamo arrivati al punto massimo di 1200 persone come paese. Quindi era uno dei paesi più abitati della Valsesia? Senza ombra di dubbio, sì, sì. Già nel 1217 esisteva, perché c'è un documento di sottomissione al comune di Vercelli e tra i firmatari di tutta la valle c'erano anche dei rossesi, perché allora non davano un nome e cognome, davano per dire Pietro di Rossa in latino. E quindi sappiamo per certezza che nel 1217 c'era già. E' sempre stato un paese ricco di storia, di cultura, di arte, perché abbiamo avuto tantissimi artisti che hanno lavorato anche in Francia, Svizzera e in tanti altri posti. E' un paesello molto bello, bisognerebbe poi fare una passeggiata una volta, è rimasto ancora abbastanza rustico. E quindi invitiamo anche ad andare a visitare Rossa, chissà che magari Obiettivo Valsesia in una delle prossime puntate non ci porti, non vi porti anche a vedere questo piccolo paese. Poi vediamo, partendo da Rossa, vediamo una strada che si inerpica e lassù in cima una grande chiesa intorno alla quale ci sono delle abitazioni. Quella è una frazione? La frazione è piana, è a 1050 metri di altitudine, lì c'è quella che si vede è la chiesa nuova, costruita al fine 700. Ma c'è una molto più antica, che risale al 1400, intitolata San Giovanni il Vecchio, e dove ci sono degli affreschi antichissimi, dei decampo di scuola lombarda. E la storia di questa frazione è una storia di una frazione rurale che praticamente ci vivevano tutto l'anno. E chiaramente i tempi, il sostentamento era fatto prevalentemente con prodotti della cascina. Quindi era un'economia di sussistenza sostanzialmente. E quindi insomma un ambiente che pur essendo montano ed essendo per certi versi lontano da quelli che erano i centri nevralgici della civiltà, ha dato vita anche ad elementi raffinate degli artisti. Certamente, ricordo che la strada rossa in piazza è arrivata nel 1963. E quindi si scendeva lungo i sentieri. Pughi e sentieri, mulattiere, prevalentemente la vita era in paese, non ci si spostava quasi mai. E questa è la Val Sermenza. Val Sermenza è detta anche Val Piccola, rispetto alla... Alla Val Grande, che è quella principale. Che è quella che sale fino ad Alagna. Qui si arriva poi a toccare Rime e Carcofrio, che sono i punti finali della valle. Questi sono i ricordi e i racconti di Daniele Arbelia, ma andiamo ad incontrare un pochettino più su, nella zona dove sono state ristrutturate le baite, dove c'è anche un centro gestito dagli alpini, andiamo ad incontrare Marco Fava, che è la nostra guida escursionistica. Ed eccoci che dalla chiesa, insieme alla bellissima neve, ho fatto una piccola passeggiata e arrivo qua nella zona dove c'è l'Associazione Alpini, incontriamo il nostro ospite, Marco Fava. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, dicevo prima che qua, se fosse una giornata di sole, saremmo praticamente in paradiso. Oggi il sole valsesiano non ci fa compagnia, ma ci lascia comunque immaginare la bellezza di questo territorio, che tu conosci molto bene. Allora, ti abbiamo incontrato qualche anno fa come guida escursionistica che aveva iniziato le escursioni con il trekking con gli asini. Si continua a farlo? Si, si, è una delle mie tante passioni, dove abbino il piacere di andare in montagna, insomma l'amore che provo per la montagna e per la mia valsesia, e l'amore che provo per gli animali, insomma. Quindi questa è sempre una opzione. Oggi sei della Mountain Planet, quindi questo gruppo di guide escursionistiche, sei stato anche responsabile dei sentieri alpini del CAI, quindi insomma conosci molto bene questo territorio. Questa zona dell'Alpe Piane di Folecchio è una zona molto bella e anche facile da raggiungere. Sì, direi che sia qui al Piane di Folecchio, ma anche tutta la montagna di Rossa, a sentieri un po' per tutti i gusti, da quelle escursioni più facili come arrivare qua al Piane di Folecchio, o la Piana, o Rai Nero, oppure camminate decisamente più lunghe, sicuramente la più conosciuta, il Pizzo Tracciora, che abbiamo qui a destra e purtroppo in mezzo alle nuvole. Oppure anche delle belle camminate, dietro Rossa c'è una valle che entra, che si chiama Val Cavaione, e lì ci sono anche camminate abbastanza impegnative e molto lunghe. Ecco, camminate lunghe, impegnative, ma mi dicevi affrontabili senza essere dei grandissimi esperti. Sì, come dicevo, ci sono un po' per tutti i gusti. E quello che vorrei sottolineare è che la zona di Rossa, appunto come dicevate prima, la riviera della Valseggia si presta, adesso stiamo andando dentro nella stagione delle camminate, dei trekking, ma qua il clima, questo microclima che si gode, è favorevole 12 mesi all'anno, e quindi sono luoghi dove è bello venire a camminare, d'autunno, d'inverno, insomma 12 mesi, tutto l'anno. Quindi insomma è uno dei punti privilegiati per quella che oggi è un po' uno degli obiettivi del turismo nel nostro territorio, la cosiddetta destagionalizzazione. Quindi non soltanto d'inverno per l'uscita, estate per le camminate, ma qui si passeggia, si può passeggiare e godere della bellezza del territorio assolutamente tutto l'anno. Qui a Piane di Folecchio, Alpe Piane di Folecchio, c'è questa casina degli Alpini dove d'estate c'è una bella festa, vero? Sì, l'ultima domenica di luglio viene organizzata la festa dell'Alpe, c'è la Santa Messa e poi sia all'interno del rifugio degli Alpini sia all'esterno, si fa insomma una bella festa molto partecipata. Ecco, se tu dovessi consigliare qualche giro, insomma noi come obiettivo a Valsese Vercelli tutti gli anni in questa stagione cominciamo a dare qualche idea a chi vuole conoscere la Valsese per farsi delle passeggiate. Un sentiero, allora uno è quello che da Folecchio, frazione di Folecchio, allora si arriva, praticamente si prende la strada da Balmuccia verso Rossa, poi c'è il primo bivio sulla destra, si sale verso Folecchio, a Folecchio si parcheggia l'auto e si viene fino qua. Quanto tempo ci vuole a piedi? Diciamo da Folecchio, arrivare alle piane di Folecchio, una mezz'oretta in tutta tranquillità, c'è il sentiero oppure addirittura per quelle persone meno proprio alle prime armi adesso c'è anche una pista sterrata quindi è facilmente raggiungibile. Poi da qua il sentiero è il 405, prosegue, va all'Alpebonda e si può andare sia col lavaggio che si ha una visione anche sulla bassa valle, su Varallo si vede anche il lago Maggiore oppure per le persone più allenate possono proseguire, andare al pizzo a tracciore e fare un giro d'anello, scendere poi a Rossa e poi da Rossa tornare a Folecchio quindi quello è per camminatori insomma. Quante ore Marco? Direi per farla attraversata, salire dal pizzo a tracciore da Folecchio e poi scendere a Rossa e tornare a Folecchio un 5-6 ore dipende poi dal passo. Benissimo, allora 5-6 ore per chi vuole affrontare tutto ciò, ci sono dei punti di ristoro o è meglio portarsi come dire il pranzo al sacco? In questo momento no, c'è un ristorante a Rossa, purtroppo a Rai Nero c'era una bellissima struttura che purtroppo la proprietaria è mancata e quindi in questo momento no, sui percorsi non ci sono bisogna portarsi da casa, insomma non ci sono punti di ristoro. Ecco allora questa già è una cosa che ci sentiamo di sottolineare per questo territorio che ha grandi ambizioni di crescita sul turismo, sarebbe importante magari riuscire a creare qualche punto di ristoro lungo i sentieri, cosa ne dici? Eh sì, non ne ho parlato di questa cosa ma io ci credo fermamente che per questo territorio ma anche per la Valsesia, secondo me mancano dei luoghi, ci sono pochi posti dove si può ristorarsi lungo il cammino, soprattutto sono localizzati nella zona di Riva Valdobbia di Alagna. Ecco quindi bisogna un pochettino ampliare questa idea di accoglienza, so che ci sono dei bei progetti, c'è il progetto di Valle in Valle, ci sono progetti per lo sviluppo turistico della Valsesia quindi sicuramente anche questa sarà qualcosa da considerare. Sì, dal mio punto di vista certamente. Benissimo, allora il tempo è volato via, vi abbiamo voluto mostrare questo gioiellino della Valsesia che è anche un esempio di recupero del patrimonio di questo territorio perché qui insomma anni fa non era stato un po' tutto abbandonato, poi qualcuno ha iniziato a recuperare le baite e oggi c'è questo piccolo villaggio che è veramente bellissimo. Sì, purtroppo il problema della montagna è questo, l'abbandono un po' dei dalpeggi, dei pascoli. Qui invece negli ultimi vent'anni a cominciare dal gruppo Alpini, dal comune, insomma si è voluto ricostruire questa struttura che praticamente erano sedime, era distrutta e pian piano c'è stato, rispetto ad altri luoghi, c'è stata una rinascita sia delle case sia del pascolo. Insomma, spero che le piene di folecchio possano essere un esempio per tanti altri posti della Valsesia che ovviamente amo. Benissimo, e con queste parole d'amore per la Valsesia si chiude questa puntata della nostra trasmissione. Un consiglio quindi per un'escursione di un bel fine settimana qui in Alpe, in Balsermenza, all'Alpe Piane di Folecchio e grazie a tutti per averci seguito e ci rivediamo la prossima settimana da Vercelli con Obiettivo Valsese a Vercelli. Arrivederci. Grazie. Grazie.